Direi che l'unico caso in cui ho trattato criminalità individuale, anche se in qualche modo organizzata, fu quello degli omicidi, delle coppie, tutte coppie di maschi e femmine tranne una, dove furono uccisi due giovani tedeschi che si sono verificati nelle colline intorno a Firenze, nei paesi, nella campagna fiorentina, che poi era diventata una campagna abbastanza invivibile, perché era costellata da tanti cartelli, ragazzi attenti al mostro, con degli occhi mostruosi che dovevano indurre le persone a non sostare in quei luoghi. Indagini le ho presi a un certo punto dello sviluppo degli omicidi che andarono avanti dal 1974 al 1985 con 16 morti, presi le indagini solo a un certo momento verso il 1982 e un'indagini, come si può capire, fatte con i miei colleghi, con Canessa, con Della Monica, che erano particolarmente stressanti. Ricordo che fingevamo, o almeno io fingevo in me stesso la sera, soprattutto a casa, di essere il mostro per dire come mi sarei comportato. Per esempio una volta mi venne in mente che la famosa pistola Veretta calibro 22 l'avrei nascosta in una cassetta di sicurezza di una banca, estratta poi quando dovevo colpire, poi rimessa lì, dal che l'esame è uno dei tanti indagini andate a vuoto in tutte le cassette di sicurezza degli istituti assicurativi di credito di Firenze. E quindi elaborazione di idee finché mi venne in mente l'idea di richiedere la cooperazione del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria chiedendo di indicarmi quali persone detenute per reati attenenti al sesso, da una certa epoca, dall'epoca in cui cominciò il primo omicidio, i primi omicidi in poi, erano liberi nei giorni degli omicidi. Venne fuori una serie numerosa di persone, si acquisirono i fascicoli e finalmente capitò fra le mani il fascicolo del Pacciane. E' una delle due scosse che ho avuto in vita mia, le altre ho cercato di tenerle così pacate, anche quando mi sono trovato a vedere morti bambini nelle stragi, anche nella strage a un treno nel 1984, fatto scoppiare dentro una galleria, quindi le puoi immaginare 15 morti e 260 feriti, che cosa uno può trovare. La scossa quando vedi che Pacciani, prima ovviamente dell'inizio dei duplici omicidi, anni prima, aveva ammazzato un uomo, ma perché lo aveva ammazzato? Perché lo aveva visto nelle campagne di Borgo San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo si erano verificati ben due duplici omicidi nei dintorni di questa cittadina e l'aveva visto insieme alla sua ragazza. L'aveva seguito, i due si erano appartati in un bosco e a un certo momento lui guardava queste due persone amoreggiare finché la ragazza, lui dice nella confezione resa, estrasse il seno sinistro. A questo punto dice Pacciani, io persi il lume degli occhi, accoltellai e ammazzai l'uomo. Quindi una abitudine già da allora al coltello, tutti sanno come, a parte l'uso della pistola, ma soprattutto nel primo degli omicidi del 74 non c'è fuso e la pistola. Ecco, perché lei scude il 68? Perché molti… No, ora si arriva anche a quello lì, mi scusi. Allora dico, quando vedi questa reazione determinata dal seno sinistro, ovviamente il collegamento andò al fatto che a due delle ragazze uccise era stato escisso il seno sinistro, a una ragazza era stato sfregiato e a un'altra era stato punterellato con punti di lama di coltello. In 1968, quando vengono uccisi un uomo bianco e una donna, Barbara Locci, sposata con Stefano Mele, vengono uccisi in una vettura che sta vicino a un torrente, dietro nel sedile posteriore c'è un bambino, Natalino Mele, il quale si sveglia al primo colpo, aveva sei anni, viene preso sulle spalle dall'omicida, che fa un bel tratto di strada, arriva a una casa, lo lascia lì, individuato allora l'autore di questo duplice omicidio che avviene in una Giulietta, Stefano Mele, il marito e la donna uccisa, lui affermò io questa pistola, nel render confezione, l'ho gettata qui in questo torrente. Fatte tutte le ricerche, non si trova quest'arma, ma l'arma purtroppo ricompare. Ricompare in che senso? Che molti anni dopo un sottufficiale dell'arma dei carabinieri che faceva servizio all'epoca a Signa, dove erano stati uccisi la Rocci e il Lobianco, riguardando il fascicolo di quell'omicidio, trova un bossolo e comparandolo con i bossoli esplosi in occasione degli omicidi, dalle tracce lasciate dal percussore, si vede che era stata usata la stessa arma. La perizia Zuntini sbaglia? Esatto. Lì è sempre stato il mistero, non risolto dalle sentenze, del come questa pistola usata nel 68 sia poi tramitata nelle mani di Pacciani e dei suoi complici. Io formulo in questo libro un'ipotesi. Pacciani stava sempre, anche quando si trasferì dal Mugello in zone più vicine, a Mercatale, quindi verso San Casciano-Valdipesa per intendersi, stava in campagna, girava in campagne come operaio, nelle campagne giravano anche per pastorizia i sardi. Abbiamo trovato qualche foto di Pacciani, per esempio con un'arma in pugno, non so se era all'epoca della resistenza, sembrava un mitra, gli abbiamo trovato dei fucili, quindi una certa propensione ad appassionarsi per le armi. Ed ecco, formulo l'ipotesi che probabilmente abbia in uno di questi incontri che si possono verificare in campagna, abbia ricevuto quest'arma. Questo è il mio pensiero, il pensiero fatto su ipotesi. Ragionando anche con la dottoressa di Monica, lei ci sottolineava la particolarità di questa cosa, doveva cambiare di mano l'arma e il munizionamento, perché se non sbaglio… Esatto, sono tutte cartucce di un certo tipo, con un certo fondello H, la sigla che l'individua, ma soprattutto è rilevante la punzonatura che dà il percussore dell'arma sul bossolo. Lei si ricorda che era inequivocabile questa perizia che collegavi? Direi di sì, perché questi rilevamenti sono abbastanza semplici, tant'è vero, andando avanti, quando nel corso della Marxi perquisizione, che viene fatta per l'appunto sotto la direzione del Dottor Perugini, nella casa e nell'orto di Pacciani a Mercatale Valdifesa e Perugini vede luccecare qualcosa, chiama il Pacciani e gli dice Pacciani che cos'è questa? Secondo lei è una coccinella, questo viene registrato. Lo prende, non è una coccinella, è un bossolo, ma figuriamoci se io lascio il bossolo lì. Era un bossolo inesploso, però veda quando uno carica l'arma, spesso, o la scarica, il bossolo schizza via, se uno non fa un movimento appropriato. Nella espulsione vengono lasciate delle tracce, non ovviamente nella parte centrale del bossolo, non nel fulminante, lì la perizia molto onestamente disse che sono compatibili con quelle che si rilevano anche sui bossoli usati per gli omicidi. Quindi fu abbastanza, non fece un giudizio di identità sicuro come l'altro. Quell'altro dell'82 di Giuntini era invece certo, per cui il 68 quantomeno la stessa arma e i stessi perditi. La stessa arma. Perfetto. Un'altra cosa su Pacciani, fu uno trova di circa 200 milioni di lire, più le case. Più la casa, non mi ricordo se era un affitto sua, forse sua. Benissimo. Era una cifra considerevole considerando… Vede, nel libro io affronto anche questo argomento. Questo argomento che lei sottilmente introduce fa riferimento ai cosiddetti mandanti, ai quali io non ho mai creduto, anche perché ormai io mi sono magistratizzato. Ciò che non provo non esiste. Tutto ci possono essere supposizioni, intuizioni che potrebbero essere anche vere, ma non dati di realtà. Facciamo questo discorso. C'è un signore il quale ordina tutti questi omicidi, si prende i repertini e si diverte per le sue manie a usarli. E come mai allora Illotti dorme in una anonica e non ha una lira per farla ballare l'orso? Come mai a Vanni anche che aveva sì questo lavoro di Porta Lettere e non si trova nulla? Ma Pacciani, guardi che ha lavorato una vita, ha lavorato una vita e, voglio dire, uno che fa mangiare alle figlie la volpe o mangia gatti, non va al supermercato, non fa grosse spese, è tipico del vecchio contadino. Io nasco da famiglia almeno di due gradi in su contadina, del contadino di un tempo, è molto risparmioso. Quindi, secondo me, lui ha sempre lavorato, non è che sia stato, voglio dire, dieci anni in guerra, ammalato, no. Quindi, se uno non spende nulla, accumula. Probabilmente la moglie, mi pare, facesse qualche servizio o che anche presto… Tu fantasticato questo fatto dei soldi, si parlò quasi del miliardo di lire, ma 200 milioni dell'epoca non credo che erano poi… No, 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 insomma, qualunque cosa sia, no. Dunque, lui è nato, non mi ricordo quando, forse è nato… An Pinane… Nel… 17… Sembra un 25… Comunque sia, negli anni 20, diciamo. Allora, si arriva poi, questi soldi, nell'85, 86, sono passati 60 anni. Poi, anche perché, ecco, il discorso dei mandanti, visto che, insomma, mi ha preceduto, ci sono state, a parte due sentenze passate in giudicato che… Sappiamo che il Calamandrei è stato assolto… E il Pubblico Ministero non ha impugnato. Eh, per cui, il Calamandrei è stato assolto. Poi, su Narducci, voi, se non sbaglio, e lei vedete anche conferma, l'Eccanese indagasse già nel 84-85 il famoso rapporto Lamperi, giusto? Sì. Cioè, a dire, noi vedemmo e chiedemmo di questo personaggio che compariva in un anonimo, facemmo degli accertamenti molto semplici. Cioè, a dire, chiedemmo le sue presenze e venne fuori che per certi omicidi era negli Stati Uniti, per studio, eccetera. Quindi noi, dopo aver fatto questo accertamento, non esistemmo più, insomma. Dopo è stata la ripresa, io non c'ero più. Questo affare dei mandanti è sempre nella mente, ma non solo per i Pacciani, è nella mente per le stragi. Anche per le stragi ho appunto lo stesso discorso. E pensare che fu io nel 93, e mi mordo ancora le mani, a dire dovremmo trovare i mandanti dal volto coperto. E non si sono trovati, e io penso che non ci siano. E allora neanche in questo caso. Hai capito? Spesso che non ci siano, finché non lo provo, insomma. Perché invece Calamandrei entra? Già nell'88, no? Calamandrei, secondo me, è entrato nella vicenda per via delle dichiarazioni della moglie, io non ho fatto il processo, non lo conosco, che mi risulta essere non compos sui. non so se è perché affetta da manie di gelosia, ma quante persone, quante persone, lei pensi che arrivarono almeno 1.000, 1.200 anonimi. E allora io per non turbare, perché lei è un anonimo e fa, lo butta via, essendo per lui, cosa fa? Le manda l'informazione di garanzia rovina la persona. Allora la mia tattica fu quella di sentirli, o farli sentire, come persone offese del reato di calunnia. E solo se nel corso dell'esame emergeva qualche sospetto dalle domande, dalle risposte, dalla desenzione dell'arma o no. Allora si procedeva a certamente più penetranti, compresa la perquisizione immediata. Questo per non turbare queste persone, perché uno si sente indicare come un mostro. Comunque no, lo scopo della domanda era che su questi due personaggi, in particolare Calamandrei e Narducci, già all'epoca voi le canesse indagaste, no? Non tanto Calamandrei, è più Narducci. Narducci ci fu un Lapperi, mi pare. che verificò che nell'81 era nei Stati Uniti e nell'85, che poi è una cosa che è emersa al processo mandante. Torno un po' indietro, collegamento nell'82 e nel 68. Lei iniziò proprio nell'82 a occuparsi dell'inchiesta. L'omicidio di Baccaiano, di Mainardi Migliorini il ragazzo tentò la fuga. E lì si trovò, io ricordo anche il ragazzo tentò la fuga. Noi addirittura, ma forse la stessa Silvia, siccome non era morto, mentre veniva portato all'ospedale, si fece trapelare la voce che avesse dato delle indicazioni. Un'azione, diciamo così, di stimolo, no? Per vedere se veniva fuori. Come un'altra azione di provocazione, fra virgolette, fu molto bravo, lì Perugini fu fatta attraverso la televisione. Dove Perugini parlò a questo, a questo essere non visto, dicendogli tutti dicono che sei un mostro, che sei pazzo, non è vero, io so che tu hai delle ossessioni nella sfera sessuale, io voglio aiutarti, voglio liberarti da questo per cercare di provare a muovere una reazione. perché era questa la cosa molto faticosa e stressante nelle indagini, che quando sembrava questo per la verità, da parte del giudice struttore, noi eravamo contrari a certi arresti, venivano arrestate certe persone, poi quando queste erano dentro avveniva l'omicidio. Un altro tentativo di trovare questa famosa verità fu l'idea di mettere una taglia e fu una disperazione, infatti fu tolta dopo 15 giorni perché arrivavano telefonate le più svagate, le più pazze, chi ce l'aveva col vicino perché posteggiava male, allora lo indicava come mostro, per cui si dovevano mettere le indagini su queste cose stupide, anziché proseguire in un'indagine diciamo così razionale. Definiamo il mostro tra virgolette, aveva un po' il gusto della sfida, la Monica ci raccontava dell'esperienza della lettera, con l'embo, ma non è l'unica manifestazione di sfida agli inquirenti del mostro, vero? No, poi arrivarono anche dei proiettili, mi sembra a me, a Canessa, ora la Silvia lo ricordo bene. Ci ha detto che lei era una casa in affitto di San Piero al Sieve. E' bravo, era proprio stata imbucata, si riuscì a risalire alla impostazione di San Piero al Sieve, che come lei sa forse è un paese vicino a Firenze, una quindicina, 20 chilometri. Si pensava di poter trovare qualche traccia come di impronte o addirittura di saliva dalla quale uno poteva tentare, allora erano gli albori, ma comunque si poteva tentare una ricostruzione del DNA e invece non ci furono di queste tracce. Si studiò molto anche la busta e la carta da lettere, che però erano usuali, non erano come il famoso quaderno da disegno Schizze in Brunnen, che fu trovato in casa dei Pacciani quando furono ucciti due giovani tedeschi. Secondo lei quello della lettera con l'embo di seno è indubbiamente un segno dell'omicida, però poi ci furono altri tipo un proiettile? No, fu rinvenuto un proiettile, che però non era troppo compatibile con i nostri, davanti a un ospedale, nel cortile di un ospedale. Ci sono anche giocherelloni che nell'ambito di una straziante vicenda e ti buttano il proiettile. Naturalmente per fare quello che non ti fece andare a vedere tutti gli infermieri, i dottori e guardare i precedenti, i non precedenti, ci sono anche queste forme. Questo a modo di ricostruzione storica naturalmente, l'unico segnale autentico fu quello della lettera dell'embo di seno? Esatto, con l'embo del seno. Le tre lettere con i proiettili, l'altro proiettile lì erano… No, quelle mandate a noi erano buone, quello trovato davanti all'ospedale non aveva gran significato. Quelli arrivavano senza affrancatura? Senza sì, perché li trasmettono, vedi anche ora, poveretti della gente quando arriva gli esplodivi non guardano. E li portarono a mano? No, li imbucarono, uno vede poi le poste, però pure la Repubblica, anche se lo sono affrancati le volte. Parlando del leader processuale, partiamo dalla condanna di Pacciani. Pacciani viene condannato in un processo condotto dalla Corte di Assisi di Firenze, presidente ogni bene, se io non sbaglio, e pubblico ministero, molto bravo, molto capace, Paolo Canessa che con me aveva svolto anche una serie di indagini. Dopodiché il processo transmigra verso la Corte d'Appello. Noi naturalmente proseguiamo le indagini in queste more fra il processo contro Pacciani e il giudizio che dovrà fare la Corte d'Appello. e raccogliamo degli elementi relativi non solo al Pacciani, ma relativi anche a Lotte, che confesserà, e a Vanni. Lotte in particolare era ben raggiunto dai elementi, perché c'era una telefonata in cui lui parlando con una prostituta, non so se gli ribelli o altri, dice che quella sera era lì perché stava facendo una propria funzione fisiologica. Noi ci ricordammo che una ragazza americana, sentita dopo il fatto, aveva notato lì nei pressi un'auto rossa di tipo un po' sportivo, molto vecchia e facendo le indagini si vide che apparteneva a Lotte. Lotte poi cominciò a parlare e le sue dichiarazioni parvero veritiere. A me impressionò soprattutto una cosa, con riferimento all'omicidio della Rontini, quello che era avvenuto, e del suo fidanzato, Stefanacci, che era avvenuto in località Vicchio di Mugello, tenere presente che anche questa era zona del Pacciani quando abitava là, dei testimoni sentiti, mai comparsa sul giornale, la testimonianza, dissero che facendo una strada bianca a metà collina, furono verso mezzanotte incrociati da un'altra macchina che per poco non li fa andare fuori strada. E quando si chiede a Lotte come avete fatto ad andare via dal luogo? Siamo passati da una strada bianca e fra poco ci scontriamo con una macchina che veniva in senso contrario. Questo era uno dei vari elementi che comportò delle dichiarazioni. Cosa successe? Il Procuratore generale in Corte di Appello, davanti alla Corte d'Assise d'Appello, nella sua iniziale ricostruzione dei fatti che allora si poteva fare, ora non più, elevò molti dubbi sulla partecipazione, sulla responsabilità del Pacciani. Dicendo che la sentenza non lo convinceva, che il contenuto stesso delle perizie dava adiso a dubbi. Noi i pubblici ministeri prendemmo tutti gli atti, quindi delle donne che incastravano oltre a Pacciani anche Lotti e Vanni e li mandammo alla Corte d'Assise. Utilizzando una norma del codice, la quale prevede che si possono omissare i nomi delle fonti di prova quando questo pregiudicherebbe lo svolgimento delle indagini. Ma dicendo nello stesso tempo alla Corte d'Assise che se loro avessero ammesso queste fonti di prova, ovviamente sarebbero stati i detti nomi. La nostra paura era a dire i nomi soprattutto della Ghiribelli e di altri e dello stesso Lotti, che ci fosse una concentrazione fra giornalisti e altre persone che potevano… Parliamo dei famosi alfa, beta… Ecco, bravo, quelli lì, che nei processi di mafia si fa usualmente. E allora il Procuratore generale modificò il proprio atteggiamento iniziale e chiese che in tutti i modi queste persone, rivelato il loro nome, venissero sentite. Ma la Corte d'Assise non ritenne di far questo e pronunciò una sentenza di assoluzione verso il Pacciane. Nel frattempo si verificò questa strana situazione che mentre noi si incarcerava il Lotti, sortiva il Pacciane che era accusato dal Lotti. La Procuratore generale fece ricorso presso la Corte di Cassazione, la quale annullò la sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Appello di Firenze e rinviò gli atti per un ulteriore giudizio. A volte la stazione diceva perché questi non hanno sentito queste persone sulle quali offrivano elementi per la responsabilità. Poi come si sa Pacciane morì prima che si verificasse questo giudizio di rinvio, quindi alla fine furono condannati definitivamente solo Lotti e Vanne. In questo processo assistiamo alla condanna del Lotti e Banni, Pucci no? No, no. Cosa ricorda di questo processo bis? Beh, io non l'ho vissuto, l'ha sempre fatto, io ormai ero proiettato verso la Procura nazionale antimafia, quindi non è che l'ho vissuto, ma secondo me fu una sentenza fondata ovviamente. Anche perché poi fu confermata in... Cinappello, in Cassazione, in Cassazione, sì, sì. Lì rimane un po' quella dichiarazione del Lotti che parlava di questo dottore, perché disse... Il Lotti appunto, l'unico aggancio è questo, sulla domanda, ma le ha mai parlato Pacciane, dice guardi una volta vidi una macchina, non so di che tipo, a distanza, con uno dentro e Pacciane mi disse che lei è il dottore. Che diedi in pagare, lo disse Lotti? Non mi ricordo se lo disse, sì? Che diedi in pagare. Infatti questo è rimasto... è stato l'impeccata che poi ha dato via all'indagine successiva. Sì, esatto. L'indagine successiva che... Che poi si è spaziato, diplomatici... Sì, dermatologo... Il magistrato principale era a Pelugia, poi il dottor Narducci che fu indagato come mandante oltre a Calamandrei, però poi... Anche se un magistrato non dovrebbe dire, perché non si può dire logicamente, ma direi che dopo gli arresti, ripeto i signori, i duplici omicidi in mostro non ci sono stati più. Questo del Pacciane perché... Voglio dire, sono finiti, non sarà una... No, questo è diciamo l'impeccata per la pista successiva... Lo so, però i colleghi, guardi, ci sono morti sopra, Canessa soprattutto, Giuttali poi... Ho preso una mezza fissazione... Però non... Non si è arrivato... Che voi, i direttori... Scusi tanto, i dottori che potevano uscire Pacciane, non erano i miei dottori che venivano dagli Stati Uniti o dal Neprasca... Erano... Potevano essere gente di lì... Non... Quindi accertavano... Il discorso del dottore era... L'hanno prima riferito al Calamandrei e poi l'hanno riferito a Narducci che dicevano avesse una casa a Firenze o comunque... Questo voi indagaste già... Si indagaste già all'epoca e non venne fuori... Anzi venne fuori la prova ultraria che lui era fuori d'Italia con l'esame del passaporto... Grazie a tutti...